Ciao! Ed eccoci qui con il video di tutti i preferiti del mese precedente, quindi del mese di luglio. Ho appena finito di stirarmi i capelli ma sono venuti così...crespissimi. Perché secondo voi? Forse perché fa un caldo pazzesco e anche se mi sono stirati i capelli in reggiseno, con l'aria condizionata sbarata addosso, avevo il calore del corpo che ha preso i capelli così, però vabbè sono morbidissimi. Vabbè comunque, perdonatemi i capelli un po' così, sono gonfissimi, mamma mia come sono gonfi! O forse non sono più abituata a vedermi con i capelli lisci così gonfi, perché ogni volta vado dalla parrucchiera che usa la piastra al vapore e me li fa piattissimi. Comunque, presto che tardi, manda le ciance, Gabri! Qua c'è carne al fuoco, come si suol dire, perché sono i preferiti del mese, come sapete c'è anche lo gnoccolone, quindi presto che tardi. Allora, cominciamo con tutti i miei preferiti del mese di luglio. Il preferito numero uno è questo! Ok, l'avete già visto su Instagram 50 volte. Qua su YouTube, solo nel video shopping, questo è il vestitino di Zara, aspettate che mi alzo così lo vedete bene. È bellissimo, è in sangallo, con tutto questo ricamo, poi ha le balze, è di varie lunghezze, perché a destra rimane più corto, a destra e a sinistra rimane più lungo, ha questa balza qua, tutta dietro sulla schiena. È bellissimo, è di Zara, l'ho preso appunto in saldo, e solo che non l'ho neanche mai visto in stagione, so che tantissime di voi siete impazzite, perché vi ho dato il codice, siete impazzite a cercarlo ovviamente sul sito sold out e nei negozi non nessuno è mai riuscito a trovarlo. Quindi, non so che dirvi, mi dispiace, è il mio preferitissimo, perché adesso sono addict al sangallo, mi piace tantissimo, infatti ho appena comprato un altro nuovo vestito da H&M, comunque ve lo farò vedere. Presto che tardi! Il secondo mio preferito del mese, continuiamo con quello che indosso, parliamo di labbra, sapete che amo tantissimo le labbra, o super evidenti, oppure non truccate, completamente nude. Quando uso un rossetto molto evidente, come può essere in questo caso un rossetto rosso, ho sempre bisogno di una matita, perché spesso i rossetti, oppure le lacche, oppure tutti i vari prodotti che usiamo, non hanno un applicatore così preciso, e visto che io ho una bocca irregolare, perché non è disegnata perfettamente, devo sempre aggiustare il contorno, per esempio di qua devo allargarlo sempre leggermente, perché di qua è più largo, sopra più o meno, forse da questa parte qua devo allargarlo leggermente, comunque ho sempre bisogno di una matita. In questo momento sto usando le matite di Deborah, le 24 ore long lasting, matita labbra lunga tenuta. Sono le matite queste qua con lamina ultra precisa, ultra sottile e retraibile, ed è una cosa fondamentale, perché tantissime di queste matite automatiche, voi le potete, cioè potete far uscire il prodotto, ma a volte non potete più farlo rientrare. Che penso sia una cosa assurda, ma in questo caso queste matite invece possono entrare e uscire il prodotto come volete. Allora, queste sono, io se non sbaglio ne ho quattro, sì, una, due, tre, quattro, queste sono matite a lunghissima, lunghissima, lunghissima tenuta. Le uso quando? Uso i rossetti molto intensi, come in questo caso, che voglio che il rossetto non sbabbi assolutamente. Quando uso un rossetto che magari so che è un po' così, un po' biriconcello e migra, quindi la matita mi serve proprio da grappante, quindi fa sì che il rossetto non se ne vada in giro fino al naso, come quando mangiamo gli spaghetti al sugo, e soprattutto fa durare molto di più il vostro rossetto. Quando per esempio so che devo stare fuori tutto il giorno e non sono così certa del mio rossetto, cosa faccio? Disegno tutto il contorno labbra con queste matite, poi disegno anche sulla mucosa e poi vado sopra con il rossetto, cioè in questo caso qua il vostro rossetto vi durerà da oggi fino a Natale. Ecco, praticamente se non lo struccate rimane lì fino al giorno dopo, ve lo ritrovate sul cuscino. Io mi sto trovando benissimissimo, uso appunto le matite quando ho il terrore di questi rossetti che sbavano, soprattutto adesso col caldo. Non so voi, ma io sudo, come in questo momento, io sudo sui baffi e anche i rossetti che d'inverno non migrano, i rossetti d'estate mi migrano, quindi per me è un mio indispensabile avere appunto una matita per il contorno labbra. Ho quattro colorazioni, vi faccio vedere tutte e quattro le colorazioni, adesso ve le sguaccio così sulla mano, perché appunto essendo un video dove vi faccio vedere solo dei prodotti, riesco in questo caso a farvi vedere le colorazioni che ho. Invece per esempio nel video delle scoperte o in altri video è più difficile farvi gli swatch di tutti i prodotti, qua essendo un solo prodotto beauty riesco benissimo a farvi anche gli swatch, così vedete tutti. Io ho la colorazione, due, la cinque, la uno e la otto, appunto un rosso, quello che ho oggi sulle labbra, poi un diciamo un vinaccia e due nude stupendi che sono il rosso labbra che mi vedete spessissimo usare quando appunto uso qualche rossetto negli altri video che avete visto, color labbra, nude, ecco, ho sempre su o la matita numero 8 oppure la matita numero 5 e insieme a questo lancio delle matite labbra, Deborah ha fatto anche il lancio, dovrebbe fare il lancio, adesso non so se sono uscite, che appunto io ce le ho da un po', sarà circa forse più di un mesetto, sono uscite anche con le matite, si chiamano 2 in 1 gel Kajal eyeliner e sono appunto delle matite ultra, ultra resistente anche per gli occhi e potete mettere sia fuori che dentro, infatti io ho messo, metto spesso la blu sotto e la verde sopra, la blu è la numero 10 e la verde la 11 o se no anche questo prugno qua che sta benissimo col mio occhio verde che è la numero 12. Comunque, questo appunto è il mio preferitissimo beauty, se volete non far migrare il vostro rossetto, se volete che le vostre labbra siano perfette tutto il giorno, perfettamente disegnate sia con i rossetti nude che con quelle colorate, queste qua, le 24 ore di Deborah, lo sapete che io adoro tutti i prodotti labbra Deborah, secondo me sono, è una delle marche migliori per i prodotti labbra, soprattutto i cushion, li avete provati? Ecco, no, dovete provare il velvet cushion, sono stupendi, tutti i colori uno per l'altro, presto che tardi. Allora, un altro prodotto beauty che però è un beauty un po' strano e so già che prossimamente in qualche video shopping di qualche collega lo vedrò senza che verrò minimamente nominata, ma tanto qual è il problema? Sono abituata. Va bene così. Allora, è una cosa un po' strana. Che cosa sono? Ma che cosa? Ecco, ma sti cappelli così gonfi. No, vabbè, devo fare qualcosa. Vabbè, devo fare qualcosa. Allora, cosa sono queste cose qua? Allora, dalla forma forse già capite che potrebbe essere tipo un calzino. Stavo viaggiando così su Amazon, stavo guardando tutto quello che presentava e c'era questa cosa qua per i piedi, praticamente per il tallone. In pratica sono dei mezzocalzini di silicone che servono per quando voi mettete la crema sul tallone, sui piedi, e non volete che magari venga via subito perché vi appoggiate coi piedi oppure mettete un calzino, eccetera, andate a letto. Questo lo mettete, appunto, dopo che avete messo la crema. Così la crema rimane lì. Il silicone fa un po' sudare il piede, quindi fa aprire il pori. I piedi hanno i pori, certo, sì che hanno i pori. E niente, assorbe meglio. Sapete che funziona? Io lo tengo più o meno 10-15 minuti e poi lo tolgo anche perché sennò non passa più il sangue nelle dita. E lo trovo fenomenale. Non so come si chiami, è un prodotto ovviamente arriva dalla Cina, dal Giappone, adesso non so, comunque è dall'Oriente. Oh, è il mio prodotto top. Allora, mi hanno detto 1, 2, 3, 4, 5, ok. Lo sapete su Instagram. Chi mi segue su Instagram, Gabriella Grecchi, trattino basso, lo sa che ho una forte dipendenza dalle ciambelle. Lo so che non è assolutamente un prodotto da YouTube, lo so che se su YouTube non mangi lamponi e hamburger vegetali, non sai nessuno. Vabbè, oggi va così. E invece no, io mi mangio le ciambelle alla facciaccia vostra. E niente, io non avevo mai provato le ciambelle, soprattutto quelle americane perché non mi hanno mai ispirato. Dicevo, ma cos'era una roba secca, una roba terribile con queste glasse colorate. Ma che roba è? Niente, le ho prese perché ho detto, ah, magari faccio una foto carina, prendo una ciambella così, faccio una foto carina, perché le ho viste tutte colorate, tutte belle. Non l'avessi mai fatto. Cioè, praticamente queste, che si chiamano Shine, io le prendo da Carrefour. Questa è così e questa appunto al cioccolato. Praticamente, avete presente i bomboloni, oppure si chiamano Kraffen, cioè a Milano si chiamano Kraffen. Mi sa che qua a Roma si chiamano bomboloni, quelli dentro la crema, quelli fritti, ecco. Praticamente è quello, però fatto a ciambella e dentro c'è la crema. Cioè, qua c'è la crema alla vaniglia e qua c'è la crema al cioccolato. La morte nera. Cioè, vi dico solo che poi io li tengo in frigo, perché adesso appunto col caldo non si può tenerli fuori. Li tiro fuori dal frigo, li lascio lì tipo 30 secondi per asciugarsi, per scaldarsi. Ecco. Vi dico che quello al cioccolato è... Questo è la crema, è una roba. Vabbè, basta. Chiudiamola in parentesi così. Allora, un altro mio tuffissimo del mese di luglio. Cosa sarà mai questo? Lui è Pasci. Praticamente è la pochette di Gabriella Beauty. Allora, so che in tantissime l'avete già presa. E la cosa che tutti mi dite, Gabri, ma è gigante. Pensavamo fosse una pochette piccola. No, non è assolutamente una pochette piccola, è una pochette grande. Vi faccio un esempio con qualcosa che conoscete. Per esempio le matite, quelle che vi ho fatto vedere prima. Guardate la lunghezza. Ecco, sono alte come una matita. E sono molto più lunghe di una matita. Ecco. Cioè, molto, molto, molto grande. Praticamente ci stanno tutti i prodotti Gabriella Beauty qua dentro. I prodotti Gabriella Beauty sono in vendita su Mediterranea.it. Vi lascio qua nel box il link se volete. Appunto ci sono tutti i miei prodotti. C'è la crema per le mani, la crema per il corpo, il profumo solido, il profumatore per l'ambiente. Appunto c'è Poshy che amate tantissimo. E niente, questa qua appunto è Poshy. L'avete vista in 50 mie foto su Instagram. Perché la sto usando tantissimo e me la porto sempre con me quando appunto faccio dei viaggi. Oppure vado in piscina, vado al mare. E quindi è lei. Poi passiamo alle cose serie. Allora, la mia serie preferita del mese scorso è Suits. Suits, dovrebbe essere così la pronuncia giusta. Comunque è su it. Praticamente questo telefilm americano bellissimo dove ci sono questi due avvocati. Un avvocato e uno no. Stupendi, bellissimi. Il protagonista, non mi ricordo il nome, ma è Gnocco Pazzesco. Quindi, il mio telefilm preferito è lui. Cioè, è questo. E Gnocco Pazzesco, ovviamente lui. Adesso vi lascio qua delle foto in cui potrete ammirare la sua beltade. E in più è ritornato. Io pensavo che appunto una volta arrivata la puntata finale, basta. Lui è entrato dove entrare. Non ve lo dico perché magari non l'avete visto. Lui, niente, è così. E quindi pensavo fosse finito lì tutto. E invece no! Ha ripreso! Yeah! Quindi adesso stanno andando in onda le nuove puntate. E solo che noi non vogliamo vedercele perché vogliamo vedercele tutte insieme. Perché non ce la faccio ad aspettare ogni settimana per una nuova puntata. Preferisco aspettare tipo 5-6 mesi e poi vedermele tutte in un giorno. Ecco. Voi cosa preferite? Guardarvi le puntate ogni settimana? Oppure guardarvele tutte in un giorno quando è finita la stagione? Cosa preferite? E niente, questi sono tutti i miei top del mese di luglio. Spero tanto di avervi tenuto compagnia. E continuate a consigliarmi gli gnocchi. I gnocchi. Mi raccomando. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!